Giornata della memoria dunque lo abbiamo più volte ripetuto del resto Papa Francesco già da mercoledì al termine della catechesi nell'udienza generale non poteva che ricordare ancora una volta che cosa è accaduto e che cosa è in qualche modo indicibile ma noi abbiamo subito da ascoltare una persona una sopravvissuta lei stessa dice soprattutto mi considerano tale un'amica di Papa Francesco Edith Brook che le parole le sa trovare Sono stata in sei campi diversi Auschwitz era un campo di annientamento come sanno tutti magari sapessero tutti Poi dopo sono stata a Dachau che non immaginavo che a 17 chilometri da Monaco perché ho pensato allora pensavo di essere fuori del mondo civile nel senso che non realizzavo Auschwitz e la Polonia per dire non capivo dove sono perché trovarsi in un inferno totale nella terra non quella dantesca non immagini che tu vivi questa terra in questa civiltà nella quale sei cresciuto ricco povero la stessa cosa però che sei fuori del mondo del mondo civile del mondo abitato da persone umane perché ti sei trovata nella disumanità nel nulla nel un inferno interno voglio dire che non si può mai raccontare e non si può mai liberarsi di questa esperienza in nessun modo assolutamente perché è un trauma se vogliamo neanche trauma secondo me per me io sono indignata col mondo anche oggi non soltanto ieri perché non credo che l'uomo ha cambiato molto perché la cosa più dolorosa secondo me è che Auschwitz non ha cambiato niente nulla né negli esseri umani né nella storia non è che oggi non c'è l'antesemitismo perché è stato Auschwitz anche oggi c'è il razzismo c'è stato anche allora non migliore l'essere umano ho detto l'altro giorno che mia mamma diceva quanto un albero cresce storto non puoi radizzare e non puoi radizzare neanche l'uomo perché ripete gli stessi identici errori e non impara niente è come un'analfabeta non c'è niente da fare e dunque questa donna ungherese ma ormai da decenni italiana questa poetessa questa scrittrice ci affida tante parole ma ce ne affida tante anche attraverso la giovinezza e la vita delle scolaresche che ha incontrato e noi visto che è in libreria da pochi giorni partiamo proprio da questo libro i frutti della memoria che è stato scritto per la nave di Teseo insieme con uno scrittore e giornalista che ho il piacere e il privilegio di presentarvi per la prima volta qui a Padre Pio TV ed è Eugenio Murrali buongiorno Eugenio buongiorno buongiorno a tutti come vivi questa giornata della memoria? beh è una giornata intensa intensa nelle emozioni perché avendo vissuto così fortemente insieme ad Edit la costruzione di questo libro ma non solo di questo libro avendo sentito tante volte la sua testimonianza avendo letto i libri ovviamente di Primo Levi ecco ogni volta cerco di portarmi con l'immaginazione nell'inimmaginabile e quindi è un giorno importante che però va vissuto con una partecipazione reale altrimenti serve a poco il Papa ha ricordato e ha riabbinato la guerra comunque a questa giornata della memoria la guerra è una negazione dell'umanità e però come sappiamo e come ha detto proprio Edit Brook ci sono state esperienze ci sono state persone che è come se avessero addirittura fatto l'università ad Auschwitz o in un altro campo di sterminio tu che sei un intellettuale a tutto tondo complimenti a proposito per il tuo ultimo libro su Margherita Jürsenar non è questa la sede per parlarne sta andando molto bene per Neripozza Margherita è stata qui troveremo un'altra occasione perché anche lei è stata una donna che sicuramente si è comunque impegnata per la vita e la speranza ti stavo dicendo che cosa significa secondo te quest'opera cioè di raccolta di lettere che in fondo sono dei fili che le persone giovanissime hanno voluto mantenere con Edit e questo libro è importantissimo è importantissimo intanto perché dà ad Edit come dire il segno tangibile di quella speranza su cui a volte non si conta perché appunto l'uomo come diceva Edit ripete gli stessi errori però i giovani hanno questa forza straordinaria a volte di interiorizzare, di comprendere e anche di testimoniare a loro volta quello che è stato quindi questo libro è importantissimo perché dà un senso all'impegno che questi testimoni i sopravvissuti hanno messo in gioco per tanti decenni con la loro forza con la loro voce, con il loro impegno e raccontare ogni volta per loro è dolore perché questo dolore è sempre presente Auschwitz non si esce mai da Auschwitz quando Edit dice che Auschwitz è stata la sua università è proprio così cioè purtroppo è qualcosa che l'ha segnata per sempre e io vedo che lei per esempio ci sono dei punti in cui fa fatica a raccontare quando narra la separazione dalla madre che pure l'ha salvata perché la madre è stata destinata ai forni crematori quella separazione è un dolore per lei vivo, presente e lei spesso si commuove mi piace che hai citato la madre perché non abbiamo un passaggio specifico però ricordo molto bene che lei più di una volta ha detto io ogni sera mi rivolgo a Dio, la madre era molto credente però lei dice io faccio un monologo perché ha questa appunto certezza che Dio non l'ha ascoltata, poi ha tutto un suo pensiero complesso ovviamente sul rapporto tra quello che accade di nefandezze nel mondo e le varie religioni ma adesso il punto cruciale che volevo trattare con te è questo questa donna così generosa con tutti che sicuramente quindi è proprio come dire strabocca dei valori e della sua fede ebraica per esempio quando dice noi non possiamo chiedere scusa per gli altri noi non possiamo perdonare se non di quello che noi facciamo cioè questa rettitudine che lei ha sempre dentro tu che cosa, diciamo in che cosa ti ha stupito? come è diventata anche parte di te? ma Edith è una persona di un'onestà intellettuale incredibile io penso di non conoscere un'altra persona così retta il suo parlare è sì sì non no come direbbe il Vangelo cioè è veramente una persona che dà tutto per gli altri tutti i giorni appunto attraverso questo suo racconto inesausto della storia del dolore lei ha preso questo impegno quando si è trovata di fronte a questa piramide di morti e due che stavano per morire hanno detto raccontate non ci crederanno ma voi raccontate lo stesso e lei ha portato avanti questo impegno tutti questi anni con una serietà e con un amore per tutte quelle persone che non ci sono più incredibili quindi veramente un atto di generosità totale davvero io credo che questo poi si sia in qualche modo che abbia un riflesso in tutto quello che Edith fa se pensiamo anche a un altro suo libro La rondine sul termosifone lì lei racconta i dieci anni in cui è stata accanto a suo marito Nello Risi che aveva l'Alzheimer e lo ha curato con un amore totale anche in quel caso ecco io credo davvero che questo sia il suo esempio perché poi sì le parole sono importanti Edith le sa usare da grandissima scrittrice qual è e dico davvero grandissima perché lei di origine ungherese scrive in italiano e questo suo italiano mi ha sempre colpito perché è un italiano in qualche modo più lucido del nostro un italiano di chi vede la nostra lingua anche dall'esterno non solo dall'interno ha una scrittura che noi madrelingua non potremmo utilizzare ecco questo è in qualche modo questa è Edith è generosità, è amore, è forza ma è anche rigore, estremo rigore e adesso facciamo una piccola pausa riprendiamo tra poco proprio ancora con la testimonianza di Edith Brook che parla del suo rapporto appunto con gli studenti restate con noi almeno 60 anni che giro le scuole prima di tutto che è una cosa pesantissima ma sono abbastanza ripagata dai ragazzi che ascoltano per essere ascoltati è molto importante perché dopo la guerra non siamo stati ascoltati non potevamo raccontare quello che abbiamo vissuto perché era troppo fresco il dolore di tutti se vogliamo nel senso che paragonavano la nostra sofferenza con la loro sofferenza perché è tutta l'Europa distrutta e quindi era proprio dovevo stare in silenzio non si poteva parlare per niente e io ho incominciato nel 46 a scrivere perché se non incominciavo a scrivere devo dire forte impazzivo io ho sempre scritto gonfio di parole proprio pieno di parole e nessuno voleva ascoltare Tu Eugenio e riprendiamo dunque col coautore di questo libro così bello, semplice e intenso i frutti della memoria con Eugenio Murrali che è anche professore oltre che collega e scrittore Tu quali parole cerchi di maneggiare con cura con i tuoi studenti a proposito di tutto quello che l'uomo continua purtroppo a eseguire malgrado i semi di bontà che sono in lui? Ma con i ragazzi c'è bisogno prima di tutto di usare parole gentili come dire guidarli nella ricerca della gentilezza, del rispetto un rispetto che è prima di tutto verso gli altri ma in particolare secondo me oggi quello che io cerco di trasmettere ai ragazzi è un linguaggio di rispetto verso chi soffre verso sicuramente tragedie della storia come quella dell'olocausto che a volte loro non riescono ancora a visualizzare bene dentro di sé e poi un linguaggio di rispetto nei confronti dell'altro genere perché non di rado bisogna educarli anche a questo ha un rapporto di grande gentilezza intelligenza e come dire profonda comprensione verso l'altro e in particolare verso l'altro genere quello che mi colpisce di questo libro che abbiamo fatto con Edith mettendo insieme e selezionando tantissime lettere che Edith Brooke ha ricevuto in particolare dopo Il pane perduto è io credo la sua il conforto ecco il conforto che i ragazzi trovano nella storia di Edith perché quando loro ascoltano e comprendono cosa Edith ha vissuto ridimensionano i loro problemi e questo li fa sentire molto importante quello che hai detto del resto anche proprio ho visto lì in quella pagina tra le illustrazioni del libro dove c'è il cuore rosso rosso e semplice in fondo immagino sia un bambino non un ragazzo che ha scritto c'è scritto no pistole si cuore si pace non arrenderti sei forte Edith Brooke mi dispiace molto no torture no gas si vita no Auschwitz insomma in fondo un linguaggio anche contratto quello di oggi ma potrebbe chissà produrre o comunque causare una carezza in più per tutte le persone che hanno sofferto anche una bocca cucita perché non dimentichiamole tu parlavi prima di Primo Levi lei stessa ha detto nessuno quando sono andata in Israele voleva sentire la mia storia ed era rimasta molto molto delusa di questo e quindi poi è venuta in Italia a Napoli e racconta delle cose molto belle sul senso proprio di vita che rinasce che ha provato nella città di Napoli e ancora quindi Eugenio che cosa troviamo tra questi ragazzi che però hanno anche a volte come posso dire un nero di seppia nascosto dentro sì c'è una sofferenza incredibile in questi ragazzi devo dire che infatti mi ha impressionato queste lettere sono abbastanza recenti quelle che abbiamo scelto non siamo andati molto indietro negli anni quindi è una fotografia del presente abbastanza fedele e questi ragazzi soffrono possono soffrire di problemi alimentari possono soffrire di incomprensione possono soffrire di esclusione a volte di bullismo e tirano fuori tutto questo e una cosa che ho già detto mi sembra in un'altra intervista ma che mi ha veramente colpito è che alcuni ragazzi mandano un messaggio di posta elettronica ad Edit e le dicono guardi che fra un po' però riceverà la mia lettera scritta a mano ed effettivamente io poi ho trovato anche le lettere scritte a mano perché loro vogliono farsi sentire fisicamente vicini in qualche modo a questa donna che li ha capiti li ha capiti non perché perché abbia dato delle soluzioni pratiche ai loro problemi ma perché gli ha mostrato che si può risalire anche dal buio più profondo e un disegno bellissimo secondo me visto che parlavamo prima dei disegni un disegno bellissimo bisogna dire che la nave di Teseo ha avuto questa anche scelta ha fatto questa scelta importante di mettere questi disegni è questo visto che parlavamo di parole questo crematorio da cui esce un fumo e si vedono le parole che fanno il fumo io trovo veramente intenso e comunicativo questo disegno in cui si vedono parole come dignità amore amore infanzia anche infanzia nonni amicizie rispetto ecco pietà tutto questo è andato in fumo ad Auschwitz e negli altri campi di sterminio e di concentramento nel mondo e questo io credo che ecco i ragazzi rielaborino tutto questo a volte in maniera semplice come si è detto prima ma davvero davvero intensa e chiara ecco arrivano dei messaggi chiari da Edith questo anche secondo me i ragazzi lo apprezzano non c'è mai ambiguità nel suo modo di parlare e questo è importantissimo perché è un mondo pieno di trappole no? e invece di Edith adesso abbiamo proprio lei ancora da ascoltare io credo che anche se il mio compito anche se è molto pesante devo dire che in qualche maniera devo andare avanti per per sapere da una parte dall'altra parte perché ho promesso a quelli che stavano morendo a centinaia e centinaia di morti che ho raccolto mettendo in una tenda di morti e quindi vado avanti per coloro che non possono più parlare per coloro che non ci sono più infatti quanto è venuto il Papa Francesco ha chiesto perdono a nome dell'umanità che ha coraggio a lei mi raccomando la memoria tanga la memoria parlava del perdono ho detto io per me non è un grande problema non riesco a perdonare perché i morti non mi perdonerebbero se io perdonassi e devo dire di nuovo quello che già avete sentito a passare da Eugenio cioè Edith Brook ha sposato un regista un intellettuale Nello Risi suo fratello è più celebre come regista ed è Dino Risi era e tra l'altro lei stessa diceva io essendo una sopravvissuta nessuno mi chiede mai se preferisco la minestra o il risotto o che colore mi piace però io voglio renderle giustizia dicendovi che è un film che sicuramente avrete visto o sicuramente ne avrete sentito parlare che i soliti ignoti ha proprio anche Edith Brook tra coloro che hanno delle piccolissime parti comunque nei crediti non è soltanto una comparsa per dire che ci sono poi delle strade dei percorsi anche in vite eccezionali come quella della donna di cui stiamo ora parlando e che solo per un motivo contingente non può essere qui in diretta con noi naturalmente la salutiamo ma abbiamo appunto Eugenio che l'ha aiutata a raccogliere tante lettere di ragazzi che quindi comunque hanno rilanciato anche il famoso cinque luci questo messaggio ancora una volta con un linguaggio molto contemporaneo direi quasi da social quali sono queste cinque luci? le cinque luci di Edith sono cinque momenti che nel nel buio più profondo le hanno riscaldati il cuore per esempio quando un soldato le ha gettato una gavetta e in quella gavetta c'erano due dita di marmellata ecco quella marmellata per lei era oro perché era qualcosa di unico in un momento in cui non si riusciva a mangiare niente erano assolutamente distrutte dal dolore dalla fame dal freddo dalla sofferenza le luci sono anche la violenza con cui in qualche modo lei viene staccata da sua madre viene destinata quindi alla vita invece che immediatamente al campo al forno crematorio la luce è un pettinino che le regala un cuoco che il papa dice avrei voluto regalare io quel pettinino ha fatto il gesto di tirare fuori questo questo pettinino ecco luci sono persino il soldato che di fronte al gesto coraggiosissimo della sorella di Edith che si slancia contro questo soldato che vorrebbe che ha picchiato la sorella e in qualche modo in maniera anche incomprensibile dice beh anche se tu sei un essere inferiore però hai avuto il coraggio di fare questo contro di me che sono una S e Ace e quindi tu meriti di vivere ecco le luci sono hanno questa questa forma strana a volte no perché sembrano però ecco anche il minimo di speranza che potevano dare questi piccoli segni di umanità dentro la disumanizzazione più totale sono per Edith stati degli appigli dei motivi di speranza e i ragazzi le hanno rappresentate anche in un disegno infatti queste queste luci che riportiamo nel libro noi purtroppo dobbiamo chiudere però ti voglio lasciare almeno 30 secondi per dirmi davvero oggi che c'è questa polemica roventata che sembra quasi che sia difficile essere ancora dalla parte degli ebrei che cosa ha detto Edith? Beh l'antisemitismo va assolutamente sempre in ogni luogo in ogni momento in ogni tempo combattuto e bisogna trovare bisogna trovare ritrovare l'umanità in tutto in tutto quello che si fa al di là delle posizioni politiche ecco questo io penso che il messaggio di amore di Edith sia la risposta più grande però certamente bisogna bisogna rifiutare ogni antisemitismo e non dimentichiamo dunque i frutti della memoria e che comunque anche noi siamo engagés siamo impegnati volenti o nolenti grazie carissimo Eugenio un abbraccio una carezza Edith Brook da parte nostra e confidiamo sempre di poterla avere comunque anche in trasmissione buon lavoro grazie anche a voi linea alla regia grazie a tutti